Per sostenere le imprese e le famiglie isolane danneggiate dalle recenti calamità naturali, il Banco di Sardegna ha stanzato un plafond di 50 milioni di euro denominato per il suo scopo reazione e rilancio. In questo modo il Banco di Sardegna vuol dare un segnale tempestivo e tangibile di grande vicinanza al territorio in cui opera la Sardegna, attivando una serie di interventi volti ad agevolare una rapida ripresa delle attività economiche della regione, dando al contempo un sostegno anche alle famiglie. Al fine di velocizzare le tempistiche e le modalità di concessione, la richiesta dovrà essere accompagnata da una semplice autocertificazione dei danni subiti che per le imprese potrà essere veicolata tramite le principali associazioni di categoria. Per le famiglie il Banco ha previsto la possibilità di chiedere sia una moratoria di sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo a casa, sia la concessione di un presito personale per la riparazione o sostituzione dei beni danneggiati, mentre per le imprese il Banco ha previsto la possibilità di chiedere una moratoria di sospensione fino a 12 mesi delle rate di pagamento dei mutui oppure un finanziamento a medio termine di liquidità per la ricostituzione delle scorte oppure la sostituzione e riparazione dei beni danneggiati o per qualsiasi altro intervento legato alla propria attività produttiva. I finanziamenti in questione non richiedono alcun tipo di garanzia ipotecaria e prevedono condizioni di tasso ridotte senza spese distruttoria.